Cari lettori, siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di venerdì 29 dicembre, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, il telefilm Il giro del mondo in 80 giorni stagione 1 episodio 3, in onda sul canale Rai 2 alle ore 21 e 20. Dal romanzo Proposta indecente di Jack Henghor, il film drammatico Proposta indecente, in onda sul canale Iris alle ore 21. Dal romanzo La risposta è nelle stelle di Nicholas Sparks, il film drammatico sentimentale La risposta è nelle stelle, in onda sul canale TV 8 alle ore 21 e 30. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Il giro del mondo in 80 giorni stagione 1 episodio 3. In Yemen, Fogg e Passepartout decidono di attraversare da soli il deserto, Fix li segue con Jane e lo sceicco. Verità scomode mettono in dubbio il viaggio. La trama del film Proposta indecente. Diana e David Murphy sono due sposini molto innamorati e molto indebitati. John Gage, maturo, affascinante e cinico miliardario, conosce il loro punto debole e offre alla coppia un milione di dollari in cambio di una sola notte con Diana. Qualche tentennamento, poi la capitolazione. Dopo, però, lei prova risentimento per il marito e chiede il divorzio. David capisce l'errore. La trama del film La risposta è nelle stelle. Ira e Ruth, Luke e Sofia, due coppie separate dal tempo e dall'età, hanno poco in comune, fino a quando una serie di eventi inaspettati porterà le loro vite ad intrecciarsi. Sofia si sta laureando all'Università di Wake Forest ed è riuscita a ottenere uno stage in una prestigiosa galleria d'arte new yorkese. La sua sembra una strada spianata verso il successo, ma la partecipazione come spettatrice a un rodeo le farà incontrare l'amore e darà una svolta alla sua vita, che sarà molto diversa da come l'aveva programmata. E qui, infatti, che Sofia incontra Luke Coens, un giovane cowboy che sta per affrontare la sfida che gli potrà garantire il primo posto nella classifica della Professional Bow Writers, la principale associazione di rodeo su Tori. Nel frattempo, il 91enne Ivo Levinson, che ha perso sua moglie Ruth otto anni prima, è in viaggio verso la Carolina del Nord per raggiungere la colonia artistica del Black Mountain College. Qui, anni prima, aveva comprato il primo quadro per Ruth, avviando una collezione che avrebbe scandito le decadi del loro matrimonio. Un incidente, però, interrompe il suo viaggio e sarà fautore del suo incontro con Sofia e Luke, mentre i due ragazzi lo mettono in salvo. Ira si ricorda della vecchia scatola consunta piena di lettere lasciata sul dietro della macchina e Sofia, sfidando le fiamme, riesce a recuperarla. Più tardi, in ospedale, Sofia guarda all'interno del cofanetto e scopre che è pieno di vecchie lettere. Ira, segretamente compiaciuto, le chiede di leggerliele. Tra i due si crea un legame molto forte e la ragazza scopre piano piano tutti i punti in comune tra la sua coppia e quella di Ira. Sebbene appartenenti a due diverse generazioni, le vite delle due coppie convergeranno, dando a Luke e a Sofia gli strumenti necessari per intraprendere con saggezza il loro viaggio verso il futuro, scoprendo i veri valori della vita e l'autentico significato dell'amore. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Un caro saluto.